Ancora un passaggio in aula per il crack di Banca Etruria ha preso infatti avvio giovedì mattina il processo a carico di 5 dirigenti e funzionari dell'Istituto di Credito Aretino accusati di truffa. L'udienza si è conclusa con un rinvio all'11 gennaio. Alcuni risparmiatori rappresentati in aula dei propri legali hanno richiesto di potersi costituire parte civile. Ogni questione relativa all'ammissione della Costituzione di parte civile è rinviata l'11 gennaio prossimo davanti al giudice competente. Gli assistiti sono già stati individuati dalla Procura della Repubblica come le persone offese da vari reati di truffa che il loro danno sarebbero asseritamente stati commessi. E quindi gli istigatori ovviamente ne rispondono in quanto concorrenti nel reato di istigazione con poi coloro che hanno materialmente portato avanti, insomma messo in atto questa ipotesi delittuosa. Gli imputati sono accusati di aver istigato i dipendenti dell'Istituto di Credito a vendere le famigerate obbligazioni subordinate poi a zerata a seguito del decreto Salva Banche del 2015 alla clientela Retail di Banca Etruria. Questa istigazione sarebbe consistita nel promettere agevolazioni anche a livello professionale di promozione di carriera in modo tale da così spingere la vendita di queste obbligazioni subordinate a un pubblico indiscriminato di soggetti che non avevano nemmeno le competenze per sapere poi decidere in merito all'investimento. I vari procedimenti relativi alla truffa carico di dipendenti, funzionari e dirigenti potrebbero essere riunificati in un unico procedimento. Per noi è sicuramente un fatto positivo perché si dimostrerà ancora di più la mancanza totale di responsabilità dei dipendenti. Grazie. 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 Grazie.